Come salvare un bambino? Associazione Progetto Laila e Croce Rossa Italiana, sezione di Gallerate, propongono a Somma Lombardo, con il patrocinio dell'amministrazione comunale, una serata dedicata alle manovre pediatriche di disostruzione. In pratica, cosa fare quando un piccolo sta soffocando? Progetto Laila, impegnata nella difesa delle donne vittime di violenza, desidera così farsi conoscere sul territorio. Progetto Laila è un'associazione nata l'anno scorso, ma che rapidamente ha preso piede sul territorio. Questo proprio grazie al carattere, al dinamismo, all'ottimismo e all'impegno di Giovanna Romano, la presidentessa e di tutte le sue volontarie. È un'associazione che si occupa di combattere contro un fenomeno purtroppo oramai assai diffuso che è quello della violenza di genere, nella fattispecie della violenza sulle donne. Questa associazione cerca di farsi carico di questo problema a 360 gradi, collaborando attivamente con tutti gli enti che sul territorio da anni cercano di risolvere la problematica a quale i carabinieri, piuttosto che gli assistenti sociali, il comune e quant'altro possa aiutare la donna in difficoltà. Progetto Laila va anche sul territorio proprio con varie iniziative allo scopo di avvicinare donne che magari non si sentono, diciamo, di essere loro a fare il primo passo per uscire di casa e provare a cercare un aiuto in situazioni sicuramente estremamente complicate e difficoltose. La serata in programma venerdì 5 aprile alle 21 in Sala Polivalente è aperta a tutti. Per cui ci siamo chiesti che cosa effettivamente può interessare alla popolazione. Secondo noi un argomento che può essere interessante e utile per tutti è un argomento a protezione dei nostri piccoli, dei piccoli di tutti, ossia che cosa fare nel momento in cui ci troviamo di fronte a una ostruzione della via aerea di un lattante o di un bambino, che, diciamo, detto in termini laici, significa cosa facciamo se un bambino sta soffocando. penso che possa veramente interessare quota parte ampia della società e della popolazione, mamme, insegnanti, nonne, piuttosto che chiunque di noi, magari come astante, si trovi a dover assistere a una brutta situazione del genere e quindi vorremmo fornirgli, diciamo, delle indicazioni per poter avere gli strumenti per risolvere al meglio questo problema, che può diventare anche drammatico. Quando e dove? Questa serata si svolgerà venerdì, venerdì 5 aprile, quindi sostanzialmente venerdì prossimo, in biblioteca comunale di Somma Lombardo. Ci sarò io, che mi chiamo Michela Garbagnoli, sono un medico anestesista e reanimatore che lavora presso l'ospedale di Gallarate, unità operativa diretta dal dottore Emanuele Bossi, che ringrazio per la sua disponibilità e il suo supporto. Ci sarà presente con me Croce Rossa italiana, rappresentata dalla dottoressa Olivia Rampolli, che è referente regionale delle manovre salvavita pediatriche e che opera presso il comitato di Gallarate, diretto dal dottor Mirto Crosta, che sempre ringrazio per il suo supporto. Ci saranno istruttori della Croce Rossa che, dopo una parte teorica introduttiva in cui si darà ampio spazio alla prevenzione, che sicuramente è un'arma importantissima in questo caso, ci faranno vedere effettivamente nella pratica come poter svolgere le manovre di disostruzione e chi vorrà avrà la possibilità di provare in prima persona. È importante ricordare che l'intervento degli esperti è sempre fondamentale, prosegue Garbagnoli. Ricordiamoci assolutamente che la prima cosa da fare in situazione d'emergenza è sempre comunque quella di chiamare il 112, numero unico di emergenza, per avere il prima possibile un soccorso avanzato che risolverà il problema. Che domenica bestiale, a Soma Lombardo il 7 aprile, si susseguiranno momenti di festa, spettacolo e cultura organizzati dall'amministrazione comunale nell'ambito dei festeggiamenti dei 60 anni della città e che rientrano nel programma 2019 del Festival Terra, Arte e Radici. Domenica pomeriggio, a partire dalle tre, avremo questo appuntamento che vedrà all'inizio la partecipazione dei ragazzi di Anfas con una piccola performance di apertura che sarà per loro l'occasione per promuovere un progetto che sta a loro particolarmente cuore, che nasce dalla loro esperienza di pitturatori e la loro proposta è di adottare una loro opera d'arte. Diciamo che all'interno di Terra, Arte e Radici si parla di una città per giovani, di una città del futuro e al nostro avviso la città del futuro deve coniugarsi anche con l'inclusività e quindi questo è il significato che diamo l'apertura dei ragazzi di Anfas, la città deve essere senz'altro per tutti, deve essere una città gioiosa. Il secondo appuntamento della giornata che a seguire appunto la piccola performance è un concerto di James Maddo che ci parlerà di New York in quanto città in continuo movimento per eccellenza che l'artista ha scelto come sua dimora d'elezione e quindi un appuntamento importante che coniuga significati e bellezza musicale a cui siete tutti invitati, l'ingresso è libero. Ancora prima che pittore e prestigiatore, clown, musicista, cantante, è Cristo Kaftansky in mostra a Somma Lombardo in Sala Fallaci fino al 5 aprile. A più di 70 anni l'artista conserva uno sguardo pulito da fanciullo, sempre affascinato dal miracolo della vita. Dipinge copie di capolavori da Van Gogh a Raffaello, lo fa fondendo colori e creatività, regalando un sorriso al visitatore. La mostra è visitabile tutti i giorni dalle 10.30 alle 12 e dalle 15 alle 18.